Vi auguro la buonanotte con questo messaggio. Lascia andare e affidati agli angeli. Noi ti offriamo i doni del nostro amore radioso. Apri le braccia e lascia andare tutte le difficoltà che finora hai tenuto stretto tra le mani. Apri le mani, le braccia e il cuore al nostro amore e alla nostra assistenza. Gli angeli ti inviano questa carta perché di recente hai cercato di risolvere questa situazione da solo. Loro vorrebbero aiutarti ad esaudire le tue preghiere ma prima devi lasciarti andare e accettare il loro aiuto. Hai lottato fin troppo ed è arrivato il momento di arrenderti. Ciò significa che devi lasciarti andare emotivamente confidando nella saggezza divina dallo spirito e quindi anche del tuo io superiore. Mollando la presa sulla situazione stai pur certo che otterrai un risultato migliore. Se hai bisogno di aiuto per imparare a farlo rivolgiti agli angeli. Ulteriori significati di questa carta sono non preoccuparti del modo in cui verranno esaudite le tue preghiere. Lascia che sia Dio a stabilire i dettagli. Sii disposto a chiedere aiuto. Lascia andare la tensione e il bisogno di controllo e vedrai che le cose miglioreranno. Evita la lotta per il potere nella tua relazione. Mantieni intatto il tuo potere e non dovrai più lottare per ottenerlo. Questo è il messaggio per augurarvi la buonanotte.